Mister Monaco, un derby adrenalinico, siamo andati sotto, però poi grande risposta dei ragazzi con una grande rimonta. Sì, 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 ho trovato le parole giuste, è stato un derby come tutti i derby, è bello, giocato con grande intensità, un plauso alla Putolana che ci ha messo in grande difficoltà, è andato in vantaggio. E noi abbiamo replicato, ancora con grande intensità, siamo riusciti a fare 1-1, 2-1, lì l'abbiamo vinta. Mister, l'avete vinta anche sui cambi, i cambi tutti azzeccati, si sono rivelati tutti decisivi, ce li spiega? Sì, diciamo, io è Felice Migliorato, che è un grande tecnico a mio fianco, tutta la settimana lavoriamo anche un po' a livello tattico, il tempo che ci troviamo. E sappiamo di, abbiamo un grande gruppo, un gruppo di ragazzi eccezionale, sono 20-22 titolari, purtroppo ne devi fare giocare 11, però sappiamo che i cinque cambi sono devastanti. Devo fare un plauso a Grieco, a Vincenzo della Monaco, a Iliano, Scherillo e Paolo Castaldo. I cinque cambi veramente sono entrati con una voglia di determinazione, hanno spaccato la partita, quella fa la differenza. Il servizio a testa a mercoledì, c'è subito il recupero da giocare con Neapolis, c'è poco tempo per ricaricare le pile e poco tempo anche per programmarla forse la partita, come si fa in questi casi? In questi casi si va con l'entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Loro, io ritengo che Neapolis e il Presidente da Vincenzo sia una delle squadre più forti di questo campionato, in Neapolis ha una struttura importante dell'eccellenza, grande squadra, grande mister, è una società fortissima e noi con l'entusiasmo possiamo giocarcela. Poi il calcio è imprevedibile, come la puoi perdere, la puoi vincere. Ci sono, infine per chiudere, due dediche importanti da fare? Sì, 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 certamente, una dedica al grande Presidente Di Bonito, alla sua famiglia che in questi vent'anni è stato premiato dal Presidente Abete della FIGC, con vent'anni, una delle matricole in Italia più longeve, Rione Terra, e poi a un altro grande dirigente nostro, Antonio Stellato, che questa notte è diventato papà di una bella bambina. Ancora auguri a entrambi e vediamo di divertirci come l'anno scorso. Grazie. Direttore Ennio, al termine di una partita vinta in rimonta, le chiedo se c'è stata quella risposta che la società si aspettava da questi ragazzi dopo la brutta prestazione col Micri. Sì, la risposta l'abbiamo avuta solo ed esclusivamente per quanto riguarda il pallincio. Una risposta ufficiale da quello che è successo contro il Micri, onestamente non sono contento, ma non sono contento per il semplice motivo che praticamente dovevamo essere più cinici il primo tempo. Abbiamo creato tanto, abbiamo creato occasione da gol, ma non l'abbiamo buttata dentro. Poi, come ho detto prima ai ragazzi, l'occasione fa l'uomo ladro. Un svarione difensivo, un rimbalzo della palla ci ha punito e ci ha fatto prendere gol. E poi abbiamo avuto la reazione per paraleggiarla e poi abbiamo ribaltato il risultato. Però se continuiamo a non essere cinici e leziosi sotto porta, avremo vita breve. Direttore, invece riguardo ai nuovi acquisti che lei meglio di tutti conosce, c'è bisogno sicuramente di tempo per amalgamarsi e per entrare gli schemi per tutti? Chi più chi meno si sta integrando? Quando pensa che riusciremo a vederli al top tutti quanti? Sì, io l'avevo detto anche la settimana scorsa. Ho detto che alla fine volevamo riconfermare lo zoccolo duro dell'anno scorso, però non c'è stato concesso per svariati motivi. Quindi abbiamo fatto, diciamo, 8, 9, 11 della squadra sono nuovi e ci vogliono sempre le fatidiche ai 7, 8, 9 giornate per amalgamare il gruppo perché effettivamente tra la difesa, qualcosina al centrocampo e soprattutto l'attacco abbiamo cambiato molto, quindi bisogna aspettare altre poche partite. Siamo sulla retta via perché poi ha un'identità di gioco questa squadra, cerca di non buttare mai la palla, però ripeto, oggi sono amareggiato perché dovevamo essere più cinici e dovevamo chiudere prima questa partita. Allora, aspettiamoci prossime gare, speriamo con più cinismo. Sì, con più cinismo perché oggi loro hanno fatto la loro partita alla Putiolana, bene, una squadra di ragazzi e hanno sfruttato l'unica occasione che poi gli è capitata, però altre squadre ti puniscono e se vogliamo fare un campionato da vertice non possiamo permetterci determinate cose, se no non si va da nessuna parte. Grazie. Con Mattia Grieco, autore di uno dei gol di oggi, ti chiedo lo spirito con cui sei entrato, perché sei entrato subito bene in partita. Il mio spirito è stato fortissimo perché ho tanta voglia di dimostrare, perché ci tengo alla squadra e voglio solo vincere. E anche Mr. Monaco che gioca un ruolo importante questa cosa, di quanto ti motiva? Il mister ci motiva tantissimo, tratta tutti quanti ugualmente e questa cosa non è da tutti, perché come Mr. Monaco ce n'è solo uno. Quindi si continua ora con lo stesso spirito? Sì, sì, sempre più forti, sempre più forti.